fascia da testa in micro pile taglia unica elasticizzata la parte che dell'orecchio è discendente la parte che va sulla nuca risale leggermente per agevolare i movimenti marca Defcon 5 il micro pile è un tessuto molto leggero ma caldo è doppio in quanto è cucita è cucita centrale e ha due parti di tessuto sovrapposte morbida leggera e la cosa importante è che abbiamo un prodotto made in italy al 100% colore verde oliva scuro